bene cari amici buon pomeriggio sono in stretto collegamento telefonico con Nicola saluta ai fan ciao allora è qua siamo ritornati al punto di partenza mascherina all'aperto non si capisce più niente mi sa che mi sa che si può uscire però abbiamo gli occhi addosso abbiamo quindi insomma vabbè oggi il tempo è bruttino diciamo pioggia quindi te lo farai il vaccino tu si ma non lo so io poi vedremo no nel senso il vaccino antinfluenzale non parlo del vaccino del covid no non lo so vabbè la cosa migliore almeno quello antinfluenzale è farlo eh sì e io invece questo sabato attraverso la stretta collaborazione di Lili la moglie di Stena del nostro caro Stefano di Loro e io seppure ma insomma con tutti gli accorgimenti e si ricominceranno gli allenamenti al tensostatico non so vabbè i i piccoli cioè i piccoli i ragazzi e vabbè io al basket nel senso il basket norma dotati e disabili sì però c'è tutto da capire io in quale fascia oraria diciamo farò parte perché praticamente saremo divisi in due gruppi e del resto insomma tutto questo caos hai sentito domenica la Juventus è presentata in campo il Napoli non è partito per Torino insomma tutto tutto un casotto sì io nel basket i Los Angeles Lakers sono vicino a vincere l'anello NBA Nico dopo dieci anni sì senza dimenticare purtroppo che a gennaio è venuto a mancare Kobe Bryant sapevi chi era Kobe Bryant era un famoso giocatore di Los Angeles Lakers sì che non mi ricordo bene forse al papà italiano cioè noi italiano di origine italiana sì ma per me oggi giornata un po' di diciamo così relax anche se questa mattina ho fatto un paio di servizi a casa e invece a te com'è andata? tutto un po' sui hai fatto pure tu qualche servizio qualche cosa ma sì hai visto che l'altra volta ci hanno scritto Stefano Riccardo e ah sì ma mi sa che non possiamo esaudire il desiderio di Stefano perché quel fatto che ora bisogna stare con le mascherine la parte è rischioso sì perché se ci mettiamo a registrare ma poi non siamai passa una volante della sicurezza ci vede con la mascherina abbassata non siamai ci becchiamo una multa poi chi la deve andare a pagare? ah va bene eh beh il desiderio di Stefano essere esaudito quando sarà possibile va bene su noi due su noi due beh c'è da vedere perché come ti dissi già con l'avvento dell'autore vabbè le giornate vanno e vengono ma è brutto tempo ma è bel tempo e sì dunque e allora vabbè per noi due vediamo se vediamo settimana prossima eh sì eh 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 sì sì il resto che si dice in barrocchio a San Magno tutto apposto si dice eh eh hai letto la notizia lo Spirito Santo è stato messo il vice parrocco Nicola ci sei? Nicola? 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 niente vabbè abbiamo perso Nicola eh ma attendete vediamo se lo recuperiamo vediamo servizio gratuito niente abbiamo perso Nicola eh vabbè allora il deluxe Zekilo show finisce qui a meno che non mi richiamo adesso quindi tanti saluti noi ci vediamo domani con altri video sicuramente per parlare di NXT quindi ciao a tutti alla prossima anche da parte di Nicola Zecchilo ciao